La rifaccio? Sì. Ok, come devo farla? Con la voce più profonda. Più profonda, sì, ok. Devono ascoltarti e devono dire, minchia, anche io voglio il Dungeon Master così. Ok. Sappiamo tutti cosa voglia dire entrare in una caverna buia, con il pavimento ricoperto d'oro scintillante. Che sia la montagna solitaria, la vetta della tempesta e il monte Grimmarfang, o il picco del tuono, alla fine c'è sempre il rischio di incontrare un drago. Questa volta sono due. Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio per parlarvi di Dungeons & Dragons e di altri giochi di ruolo. Ne parleremo da vari punti di vista, tentando di rispondere alle vostre domande e alle vostre richieste d'aiuto. Per esempio, c'è arrivata una lettera che chiede Ciao! Sono un giocatore alle prime armi. Ho iniziato buildando un monaco un po' a caso e adesso che sono a livello 5 mi trovo in difficoltà. I combattimenti sono frustranti perché non riesco mai a combinare niente di buono, e finisco spesso a terra rischiando di morire. Tra l'altro, il mio personaggio dovrebbe essere l'unico tank del gruppo, e quindi tutto il party è in difficoltà. Infatti, sono già morti tre personaggi nel giro di due sessioni. Il mio non è ancora morto, ma spesso ci va vicino. Non so come fare perché ho avuto un battibetco con il master, perché gli ho chiesto di farmi rebuildare il personaggio a livello 6, ma si è rifiutato. Solo che intanto continuiamo a incontrare mostri che sono troppo forti per noi e morire di conseguenza. Allora, per rispondere a questa lettera mi viene da dire subito una cosa. Per tutti i dungeon master là fuori, state tranquilli, non succede niente se le cose cambiano tra una sessione e l'altra. È vero che il realismo fa funzionare meglio il gioco, ma si possono sempre trovare modi divertenti o interessanti e interessanti per accomodare le richieste dei nostri giocatori. Per esempio, ci siamo trovati in una situazione simile con il tuo monaco, no Giada? Sì, con Gyrion, che è il monaco che sto ruolando, all'inizio continuavo a sentirmi inutile nei combattimenti, perché comunque ai primi livelli non ero molto fortunata con i dadi io, e inoltre facevo anche pochi danni. Quindi so bene cosa significa partire con il piede sbagliato. Nel mio caso c'è stato un momento in cui nel gioco avevamo del tempo libero e il master mi ha suggerito di allenarmi con il guerriero del party. In questo modo ho ottenuto competenza anche con le armi da guerra e sono riuscita ad aumentare il danno che facevo in combattimento, passando da un dado 6 a un dado 10, e mi ha aiutato parecchio. Comunque io vedo anche altri due problemi in questa lettera. Il primo è che il giocatore è particolarmente frustrato nel portare avanti il suo personaggio e secondo me è veramente brutto giocare così, cioè non ha senso perché non è più divertimento. Il mio consiglio ai giocatori per quando succede una cosa del genere è di provare a concentrarsi sugli altri aspetti del loro personaggio, quindi non solo sul combattimento, ma anche ad esempio sulla storia del personaggio, sugli obiettivi, sul carattere, sui legami che sta creando sia con il party che con gli NPC, visto che in questo caso in realtà i personaggi del party continuano a morire. Insomma, provate a capire se il vostro personaggio vi soddisfa in generale, anche negli altri ambiti, e se quindi vale la pena provare a portarlo avanti. Altrimenti, se capite che la frustrazione è troppa e che non c'è più soddisfazione nel giocare quel personaggio, iniziate a crearne un altro. Sì, e parla con il master del fatto che pensi che il tuo personaggio non funzioni più all'interno del party, almeno a livello di combattimento. Almeno puoi anticipargli che stai creando un nuovo personaggio e non appari dal nulla con una nuova storia, volendola per forza in serie nel party. Esatto, e poi cercate comunque di giustificare in modo narrativo l'addio del vostro personaggio, cioè ci deve essere un motivo per cui si allontana dal gruppo, a meno che appunto non muoia, però deve esserci un motivo che lo spinge ad andarsene via. Cercatelo, narratelo e fate in modo che il suo addio venga comunque sentito dal party e che rimanga un momento della storia di quella campagna. Sì, potrebbe diventare per esempio il motivo per cui viene fondato un nuovo party, visto che gli altri giocatori sono già morti più volte. L'altro problema invece di cui volevi parlare? L'altro problema è che, a proposito di morti, mi sembra che ce ne siano un po' troppe nel giro di poco tempo. Non so tu cosa dici da master. Beh, allora, non c'è un troppo o troppo poco a livello della gestione delle morti in un gioco. Dipende sempre di che tipo di gioco di Dungeons & Dragons vogliamo parlare. Si può giocare una campagna tosta dove c'è sempre il rischio di morire in combattimento e alcuni moduli lo prevedono anche, prevedono opzioni per rendere il gioco estremamente più difficile. L'importante è che il party e il master abbiano le stesse intenzioni. E se non hanno le stesse intenzioni, comunque una soluzione si può trovare. Per esempio, un trucco interessante è quello di costruire personaggi gregari. Cioè personaggi buildati apposta solamente per il combattimento, che non vengono portati avanti come personaggi principali, ma fanno da guardie del corpo o sostituiscono i personaggi nel combattimento. Per esempio, un bardo non deve per forza essere buildato per il combattimento, se preferisce avere incantesimi e abilità legate al roleplay. Però può avere un barbaro, come guardia del corpo, che interviene quando il bardo è in pericolo. Così è più divertente, si può provare a ruolare classi diverse e entrambi sono soddisfatti. Il party perché ha combattimenti più facili da gestire, avendo personaggi più grossi e più resistenti, e il master che può lanciare i mostri che vuole. Ok, mi sembra figo comunque, però mi sembra una soluzione solo per il master, nel senso che secondo me il primo passo che dovrebbero fare i giocatori è proprio quello di parlarne al master. Quindi io dico sempre che al primo posto c'è la comunicazione. In questo caso, ad esempio, il nostro amico ha parlato singolarmente con il master. Secondo me il primo passo da fare è capire se è un problema di tutto il party e non di un solo singolo giocatore, e poi a quel punto fare in modo che tutto il party ne parli con il master dicendo guarda che ci sentiamo a disagio per questo motivo. A quel punto poi sta al master riuscire effettivamente a trovare delle soluzioni come quelle che hai dato tu per riequilibrare i combattimenti e fare in modo che ci sia divertimento per tutti. Anche perché da giocatrice devo dire che nel momento in cui ci sono combattimenti sempre troppo difficili, io ad esempio non dico che mi annoio ma mi scoraggio facilmente. Cioè se vedo che è un periodo in cui c'è un trend di combattimenti sempre difficili e mortali, a un certo punto ho anche quasi paura ad affrontarli, a immergermi nei combattimenti. Mentre ad esempio mi diverto molto di più quando ci sono gradi di sfida diversi e quindi ad esempio c'è un combattimento che magari sottovaluto invece si rivela sorprendentemente mortale per qualcuno del gruppo, o ad esempio ci sono altri combattimenti che inizialmente dico ok qui qualcuno ci resta secco e invece poi ce la caviamo molto facilmente e quindi ti senti particolarmente potente. Perciò ho visto che questa alternanza tra livelli di sfida rende tutto molto più stimolante, più divertente. Sì hai ragione, è utile anche per il dungeon master per esempio. Io mi sono accorto giocando un modulo come la maledizione di Strad che se il party rimane traumatizzato dai combattimenti perché sono sempre mortali, sempre pericolosi, c'è sempre tensione, alla fine è difficile fargli fare missioni secondarie o tentare di costruire rapporti con NPC che non sono nella linea principale narrativa perché non vado a indagare la rovina se so che se c'è un mostro mi ucciderà. So già cosa c'è, c'è la mia morte e quindi non ci entro, penso di evitarlo. Esatto, no è verissimo, è verissimo. Allora io direi che abbiamo tirato fuori abbastanza cose da questa testimonianza. Grazie per averci iscritto, speriamo di essere stati un minimo utili e se anche voi avete bisogno di aiuto o avete voglia di condividere la vostra esperienza scriveteci alla mail tutto minuscolo draghi.microfono-gmail.com è giunto il momento di fare un po' di pubblicità a qualche fantastico sponsor che ha deciso di sostenerci e che ancora non abbiamo se avete delle pagine o delle aziende che volete pubblicizzare in questo spazio non esitate a scriverci e otterrete degli spot pubblicitari super cringe firmati dai due draghi al microfono Nel frattempo se volete sostenerci basta scaricare il podcast e consigliarlo ai vostri amici Esatto Per scriverci invece la mail è? Così lo ripetiamo? draghi.microfono-gmail.com Tutto minuscolo, tutto attaccato Ok, quindi draghi.microfono-gmail.com Esatto Come avrete notato la struttura del podcast sarà molto simile a un programma radiofonico e noi risponderemo, approfondiremo i nuovi episodi Esatto, ma andiamo con il prossimo argomento Un argomento che so che ti è molto caro Ovvero la democrazia esiste in Dungeons & Dragons o è un gioco troppo master centrico? Come dicevi è un tema che mi è caro già da un po' Da un po' che rifletto su come i rapporti di potere funzionano all'interno di D&D Ok? Proprio per il fatto che c'è un master che è il videogioco effettivamente che quindi ha così tanto potere di decisione sulle scelte del gruppo sembra essere quasi in un ambiente poco democratico poco aperto all'interazione di tutti mentre invece in teoria è un gioco di ruolo collaborativo, cooperativo Quindi sono andato a cercarmi sul manuale del Dungeon Master ho trovato una parte che avevo saltato la prima volta che l'ho letto parlo del manuale della quinta edizione La prima regola vera e propria che viene spiegata nell'introduzione mi sembra sia a pagina 4 o qualcosa del genere dice Le regole di Dungeons & Dragons aiutano il Dungeon Master e gli altri giocatori a divertirsi Non sono le regole a comandare Soltanto, ed è in corsivo anche nella versione originale Soltanto il Dungeon Master ha il controllo del gioco Sembra quasi che ci sia una sorta di doubt-death di scambio che Wizard propone ai suoi giocatori Dice, perfetto, tu come Dungeon Master sarai quello che mette più tempo più sforzo, più iniziativa nella cosa e sarai ripagato con il controllo e il potere che hai all'interno del gioco Tu sei l'arbitro assoluto delle regole Adoro Dungeons & Dragons e ho fatto il Dungeon Master praticamente per tutta la mia vita da giocatore Quindi adoro fare il Dungeon Master e adoro il controllo che mi dà Secondo me non è per forza un problema Ma dal punto di vista filosofico, dal punto di vista sociale non mi va molto a genio questo ragionamento che hanno messo all'inizio del manuale Sembra quasi di arrivare a argomenti dall'Eviatano di Hobbes Per evitare che tutti si divorino a vicenda il popolo si costituisce donando tutto il potere al sovrano e perdendone così il controllo completamente dopo l'atto iniziale Sembra quasi che D&D come gioco si basi sul presupposto che i giocatori sono pronti a saltarsi alla gola a vicenda Ok? Ha senso? Sì, in alcuni casi è vero secondo me Sì, è vero, no? Perché comunque le regole sono difficili da interpretare quindi ognuno tenta di portare acqua al suo mulino e si rischiano veramente discussioni Questa è una cosa certa Però quello che mi chiedo è veramente la situazione iniziale? Cioè degli amici che si siedono al tavolo vogliono veramente arrivare a saltarsi alla gola a vicenda o è soltanto un incidente di percorso? Magari perché le regole appunto sono troppo complicate o prese troppo alla lettera? È per quello che prima ho letto anche la prima frase, no? Che diceva come le regole sono soltanto un modo per divertirsi Se quel presupposto rimane in realtà non ci sarebbe bisogno neanche di un arbitro, no? Si sceglie al momento per fare una narrazione interessante e poi dopo si prosegue Un esempio che volevo fare è il ladro, no? Il ladro, per esempio, è costruito per avere attacco furtivo ogni turno nella quinta edizione Però proprio a livello di regole è il dungeon master che glielo concede E mi sembra interessante questa cosa Cioè il mio personaggio che ha diritto ad attacco furtivo che è stato pensato per avere attacco furtivo ma devo comunque aspettare che il dungeon master mi dica Ok, sì, puoi farlo E più volte da dietro lo schermo mi viene la tentazione di dire se gli lascio attacco furtivo mi frega, il combattimento finisce la narrazione va a quel paese quindi magari mi invento qualcosa Cioè c'è sempre quella vocina il diavoletto sulla spalla del dungeon master che ti dice Chi se ne frega, sei tu il capo fai quello che vuoi No? Cosa ne pensi? Allora, beh, io credo che sicuramente dipenda dal contesto nel senso che da un lato ci sono secondo me effettivamente dei gruppi che non si radunano inizialmente come amici quindi magari potrebbero potrebbero esserci delle situazioni in cui dopo qualche sessione potrebbe venire fuori qualche tensione all'interno del gruppo ed effettivamente un leader un arbitro che comunque abbia il potere di gestire il gruppo secondo me serve e è anche vero che invece ci sono parti di amici che probabilmente sarebbero tranquillamente in grado di autogestirsi quindi è sempre una questione di contesto anche io come te ho fatto il ragionamento dello scambio però in realtà l'ho visto più come una cosa molto simile a quella che avviene effettivamente nella nostra democrazia cioè nella nostra democrazia i cittadini votano qualcuno che li rappresenti che li governi e che teoricamente comunque dovrebbe aiutarli a raggiungere i propri scopi a livello di società ora ovviamente questa è tutta una cosa molto teorica poi questo avviene anche in Dungeons & Dragons nel senso che non è che il master venga scelto a caso oddio potrebbe anche succedere però di solito il master è colui di cui ci si fida colui che si sa che avrà veramente la voglia di informarsi di leggersi tutto il manuale di preparare le sessioni di preparare la campagna e che probabilmente ha anche un certo talento perché comunque a lui si affida il divertimento di un party per mesi se non addirittura per anni quindi secondo me c'è effettivamente questo scambio ed è il fatto che il party che si fida del master gli dice ok noi ti diamo il potere tu in cambio ci dai il divertimento attraverso il tuo sapere e qui secondo me è interessante perché mi ricorda un po' il discorso di Foucault che diceva che comunque il potere e il sapere sono sempre legati e secondo me questo si vede benissimo nella figura del dungeon master perché comunque il dungeon master è colui che come dicevo si deve comprare e leggere i manuali cioè possiede proprio fisicamente il sapere del gioco le regole la lore la storia e tutto quanto i background dei personaggi cioè è onnisciente sui background dei personaggi cosa che invece tra di loro loro magari non conoscono quindi secondo me questo si vede molto però è quello che diceva prima anche la lettera mi sta bene questa cosa cioè nel senso nei gruppi ci deve essere sempre se vuoi fare una cosa organizzata in qualche modo ci deve essere qualcuno che dia una struttura che sia scelto dagli altri in modo tale che non siano gruppi negativi ok però comunque decida cosa fare dia gli input sia lo stimolo creativo come si vuole dire però il fatto è che ed è studiato anche a livello di democrazia questa cosa anche se adesso non mi ricordo quale filosofo sociale o quale sociologo l'ha detto che poi alla fine in una democrazia le uniche due scelte che ti rimangono sono exit o voice cioè uscire dal gruppo sociale diventare un paria fuori dalla griglia con la sua casa nel bosco eccetera eccetera oppure protestare no e il problema è che all'interno di un piccolo mentre a livello democratico si può fare no si scende in piazza si protesta si fa sentire la propria voce si creano class action eccetera eccetera a livello di un piccolo gruppo si creano tensioni che se non hai la capacità e l'empatia per gestire cioè capito non vorrei che fossero problemi che nascono solo per il fatto che il gioco è così DM centrico centric ok e quindi avevo pensato comunque a un paio di modi per rendere il gioco più democratico no estremamente semplici e per arrivare a un lato più pratico dopo questo lato teorico se vogliamo divertirci assieme giocando no non c'è bisogno di un arbitro unico ognuno può essere l'arbitro delle regole del proprio personaggio cioè io faccio il ladro sono io che decido quando ho sneak attack ho un attacco furtivo ok senza comunque avendo una sorta di conferma dal master però per il fatto che lui gestisce gli NPC che ti può assicurare che in quel momento non c'è nessuno che ti sta vedendo ok e questo può essere spostato anche a livello dell'ambientazione per esempio io anche giocando con voi e con il vostro party ho sempre tentato di fare di inserire più cose possibili e c'è il guerriero del gruppo che mi ha creato tutta una zona del mondo ok che ha deciso per esempio di farla volante e io non avevo la minima intenzione di mettere isole volanti nella mia ambientazione salutiamo il buon mister il sì mister 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 salutiamo il buon mistre che ci segue sempre da casa io non avevo la mia intenzione di mettere isole volanti e poi l'ho inserita nella narrativa quindi una volta che si arriverà alla sua storia si arriverà alla sua città e così sarà lui a dirmi ok c'è questo questo e questo può diventare una dialettica capito e si può anche inserire nelle regole semplicemente quando ci si siede al tavolo basta parlare di questa cosa e dire guardate che io vi lascerò com'è che si dice autonomia narrativa nella vostra backstory quindi quando arriverete a quel momento sarete voi che dovete narrarla ok fateci sapere invece cosa ne pensate voi a riguardo potete scrivere sempre alla mail draghi.microfono chiocciolagmail.com ma se volete raggiungerci anche più velocemente io ho un profilo instagram di endice su cui potete scrivermi in direct così i vostri messaggi ma anche le vostre mail verranno ripubblicati nelle stories del profilo in modo che possiate condividere anche con tutti gli altri le vostre idee insomma facci lo spelling dell'handle di instagram oh mio dio allora underscore quindi trattino basso esatto d n d i c e trattino basso è quasi il momento di salutarci ma prima vorremmo lasciarvi con un piccolo quiz sì il primo a indovinare verrà ricondiviso nelle storie di The End Ice e otterrà il titolo di drago onorario ad ogni puntata infatti vi lasceremo con una domanda diversa di vari tipi potrebbero essere indovinelli quiz veri e propri ricerche da fare e solo chi avrà iniziativa più alta sarà in grado di aggiudicarsi questo meraviglioso titolo di drago onorario esatto iniziativa perché dovrete essere i più veloci ma anche intelligenza perché comunque dovrete rispondere in modo corretto e l'indovinello è questo per questa settimana un marinaio concesse il suo nome alla città metà per ogni dove oggi dai granduchi è governata e tra le fiamme è conservata anche se l'avventuriero avrà vagato senza posa lei di quella costa rimane la più famosa sbam cos'è? questo lo lasciamo questo voglio lo sbam non lo so ci stavo vai vai va bene con questo direi che vi salutiamo aspettiamo i vostri messaggi se avete la risposta scriveteci a draghi.microfono chiocciola gmail.com o sempre in direct direi che è più veloce ancora ricordate che vince il più veloce ma soprattutto vi aspettiamo al prossimo episodio non mancate non mancate c'è più veloce l'anima che è più veloce non mancate ma non mancate che è più veloce Grazie a tutti